Conosciamo, svolgiamo parallelamente all'azione di contrasto anche quella che è tutta un'attività di informazione e cerchiamo di contrastare anche questo fenomeno per mezzo delle nostre pattuglie balneari, soprattutto sull'area di rio. Per quanto riguarda invece i minori ingaggiati o mandati a vendere in spiaggia, lì entriamo in un aspetto di gravità ancora maggiore, quindi si parla di sfruttamento minorile, sarebbe un'attività che se la riscontrassimo così comporterebbe tutta una serie di atti conseguenziali sicuramente gravi. Se ci accorgessimo che è abbastanza diffusa questa usanza, metteremo in campo tutte le forze ancora di più perché ovviamente saremmo davanti a una questione veramente troppo grande. Grazie.